Eccoci di nuovo qua zia Ascolta, ascolta Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare tutte le persone che ti hanno fatto gli auguri di compleanno Ecco, non li conosco, io li ringrazio ma non li conosco Hai ricevuto zia tantissimi auguri su quel video No, io li ringrazio tutti Ma se invece di fare tanti che ho fatto, se serve di fare 20 anni era meglio Eh, ma invece di 20 hai fatto 84 Hai fatto 84 Ascolta, oggi facciamo vedere agli amici a casa i libri Cioè gli ultimi 4 libri che abbiamo acquistato e di cosa parlano, giusto? Sì, compro tu Partiamo subito con il libro La paleodieta di Rob Wolf Cioè lo stile alimentare che ha tenuto in forma l'uomo per 2 milioni di anni Questo libro è stato scritto da Rob Wolf, ex allievo di Loren Cordain che è il maggiore esperto al mondo sulla paleodiet Finalmente arriva in Italia questo fantastico libro che ci insegna zia, tieni il libro in mano Sì Che come ti dico sempre io La paleodieta, c'è quella del latte E anche quella del latte c'è Io zia, non sta a togliere quello di un segnalibro Lascia lì la cartolina Ho messo il segnalibro, sto leggendo il libro io Lascia lì Cosa fa come? Sì È una cartolina ma l'ho messa come segnalibro Metti dove che era Ma la città me lo devo dire, non vedo Verona Ah Verona Eh Ero andato con la colomba a Verona io Eh va torto, va torto Sì In colomba l'hanno mai sassi di coriatore Ascolta Sì Allora zia la paleodieta di cosa parla in poche parole? Bonde qua eh Aspetta, ascolta Parla Parla che il nostro DNA è tarato come i uomini della preistoria Sì Non è cambiato E noi dobbiamo alimentarci di tutto Tranne che di cereali e derivati Ma mi piace tanto Se li danno i bambini appena nati il latte La mamma li dà il latte Come si fa a dare il latte al bambino della propria mamma? Ma il latte Il latte Ma il latte umano va bene zia Il latte di mucca è sbagliato Eh Ma il latte di mucca Ma il latte è sempre stato in... Dari primi tempi della... Della infanzia Sì ma zia Noi mangiamo cereali e beviamo latte da 10.000 anni In tutta la storia dell'uomo il nostro DNA non è tarato per questi alimenti Infatti questi alimenti portano tutte le malattie Tumori, cancro, alzheimer Ma sono tutti i mali in giro per tutte le cose Sì ma zia tu devi... Perché non hanno poca presenza nel custodio del DNA Tu devi capire che tutte le malattie sono legate all'alimentazione Io Io zia Personal trainer Perché buttavo il beleno? Zia io mi sono diplomato alla Natural Bodybuilding Federation Sono personal trainer Di livello avanzato E ho studiato nutrizione Anche nutrigenomica e nutrigenetica Che studia il rapporto tra gli alimenti e il nostro DNA Quindi se qualcuno di voi vuole avere qualche delucidazione Mi contatti e io gli spiegherò come alimentarsi Cambiamo libro zia Adesso parliamo di questo Aspetta Invertire l'invecchiamento Di Sang Wang Tieni qua Questo libro zia parla di come Ristabilendo un pH Alcalino Nel nostro sangue Nel nostro corpo Quindi Noi siamo in grado di invertire l'invecchiamento Cioè di non invecchiare Ma gli anni passano Sicuro che non si può non invecchiare Perché gli anni vanno spazzano Sì ma zia Ma tu devi capire che non c'è scritto da nessuna parte Che quando si arriva a 70-80 anni Bisogna essere vecchi Pieni di malattie Con l'ostoporosi E in carta pecoriti Non c'è scritto da nessuna parte Perché i uomini una volta Non avevano tutte queste malattie E come dice lui Ristabilendo un pH alcalino Noi riusciamo a invertire l'invecchiamento Dopo abbiamo The Power Di Rhonda Birne Questo libro zia È il seguito di The Secret The Secret è stato un libro Che ha cambiato la vita a milioni di persone Su questo pianeta Il quale aveva spiegato La legge di attrazione Questa famosa legge Che noi magneti dell'universo Possiamo attrarre a noi Qualsiasi cosa Questo è il suo seguito Che parla di questo potere Lo leggeremo in caso Se merita faremo un video apposta Su questo libro in un futuro Ultimo libro zia Ci ricolleghiamo a Invertire l'invecchiamento con Il miracolo del pH alcalino Di Robert e Shelley Young Bilanciate la vostra dieta E recuperate la salute Tieni qua Anche questo libro zia Che è uno dei libri Più famosi al mondo In fatto di pH Parla sempre Di come Si riesce a sconfiggere Tutte le malattie Ristabilendo Un pH alcalino Nel nostro corpo Ma cosa vuol dire Avere un pH alcalino? Giusto? Il nostro sangue Deve avere un pH Compreso da 7,45 7,65 Certi alimenti Detti acidi Tra cui cereali Carne Pesce Formaggi Fanno diventare Questo pH Acido E invece Gli alimenti Come frutta Verdura Fanno arrivare Questo pH Alcalino Cioè ce lo alzano Noi Mangiando una dieta 80% Alcalino E 20% Acido Riusciamo a avere Un pH alcalino E quindi Riusciamo a preservare Il nostro corpo A tutte le malattie Giusto zia? Tutto giusto Tutto importante Quindi zia Di questi 4 libri Quale ti piace di più? Vieni a vedere Vieni a leggere E poi si può Vedere Cosa che va più Cosa che va meno Ah zia Ascolta Prima di chiudere il video Ricordiamo a tutti Che lunedì sera Steve Jobs Terrà la conferenza Sì E noi martedì Discritto Sappiamo cosa dire Ecco Quindi Un saluto a tutti Sì E alla prossima E basta Ecco me Ciao E sacramento Ciao No se mi fa Tu mi si minisces Matteo Tu mi si minisces Ma non arriva Non arriva Mi si minisca proprio Vieni a contare